Se le tue eroine d'infanzia erano Ariel e le Mermaid Melody, se ti piaceva tantissimo la serie tv australiana H2O e magari i tuoi film preferiti sono Splash, Una Sirena Manhattan, Pirati dei Caraibi 4 e Aquamarine, allora questo è l'articolo giusto per te, perché diventare una sirena ormai è possibile e se l'estate è la tua stagione preferita e ti senti veramente a tuo agio a stare in acqua, lo sport adatto a te è il Mermaiding. Si tratta di un miscuglio tra nuoto pinnato, nuoto sincronizzato ed underwater theater. C'è chi se ne occupa a livello professionale facendo la sirenetta negli show acquatici, ma adesso è diventato un vero e proprio sport con immersioni lunghissime ed esercizi di apnea. Un fitness acquatico affascinante e suggestivo, grazie al quale diventare sirene. Nato nelle Filippine, ormai esistono delle scuole in tutto il mondo. Sostanzialmente imparerete a nuotare con una monopinna integrata, ossia una vera e propria coda da sirena. In Italia lo sport è praticato sia in piscina che al mare. La prima scuola nata nel bel paese si trova in Sardegna, a Golfo Aranci, in provincia di Otranto. È qui che ha sede la Casa delle Sirene. I corsi vanno dal livello base a quello avanzato e si affiancano anche alla passione per la natura e la biologia marina, affiancando il Mermaiding alle escursioni marine. Altri corsi di Mermaiding si trovano anche a Milano, presso la piscina comunale di Bresso, ma è ormai un'attività che sta coinvolgendo numerosi appassionati in tutta Italia. E voi? Siete pronti a munirvi di coda e a provare l'emozione di essere una vera sirena?